Grazie a tutti, è un onore per me essere qua, sento il calore del pubblico, ma sento soprattutto il calore del global warming. La NASA ha appena diffuso i dati delle temperature globali di settembre 2016, che tanto per cambiare il risultato è il mese di settembre più caldo di sempre. Sono ormai oltre 300 mesi consecutivi che le temperature globali sono sopra i valori di riferimento del XIX secolo, ma come vedete il riscaldamento globale, che è inequivocabile, ormai non discutiamo più se la Terra si scalda, sarebbe come se discutere se la Terra è rotonda, non è uniforme. Alcune zone si scaldano più di altre e fra queste proprio la nostra Europa e il Polo Nord. Sono alcuni dei punti caldi, degli hot spot del climate change. Altri subiscono dei lievi raffreddamenti che sono fra l'altro, come quel blob freddo lì sotto l'oceano atlantico, sotto la Greenlandia, i corresponsabili delle stagioni impazzite, non ci sono più le mezze stagioni. Il pianeta ha la febbre, ma non vi mostro questa diapositiva per dire che il pianeta ha la febbre perché ce l'ha, ma per dirvi quando dobbiamo preoccuparci delle ondate di caldo e del caldo estive. Dobbiamo preoccuparci quando riusciamo a misurare la temperatura atmosferica all'ombra con un normale termometro da febbre. E l'ho fatto diverse volte negli ultimi anni, estate del 2003, mai così caldo negli ultimi 46.000 anni. Nell'estate 2003 tra l'altro c'è stato un numero elevatissimo di vittime di eccesso di mortalità in tutta Europa, 70.000 vittime, 15.000 in Italia e 20.000 in Francia. Un'estate che ha causato più vittime addirittura delle alluvioni, dei tornado e degli uragani. Luglio 2015. Luglio 2015 ho salvato un'altra cosa, come se la montagna si fosse spostata in città. Sesto, la ridente località del nostro appennino toscomigliano, mille metri, è stata calda come normalmente era calda Modena nel passato. E Modena, vi chiederete, Modena ha avuto diverse giornate che è stata calda come più che luxorio in Egitto. Nel futuro, se non limitiamo i cambiamenti climatici, chiameremo fresco quello che è oggi il caldo più incaldito. E tutto questo ormai sappiamo che avviene a causa dell'aumento dei gas aereo in atmosfera. CO2 ma non solo. Mi concentro però sulla CO2 perché è il principale, un gas minore per quantità ma importante per qualità. Quando nacque io era 320 parti per milione, che è già un valore da record. Oggi ha superato la soglia psicologica di 400 parti per milione. Meritava titoloni sui giornali perché non era non era così alta da ben due milioni e mezzo di anni. Allora sulla Terra non c'erano gli Homo sapiens ma degli scimmioni come me, l'Australopithecus gari. E Bologna era sommersa dall'acqua, dal mare. E questo secolo potrebbe essere testimone di cambiamenti climatici inauditi e di una distruzione senza precedente degli ecosistemi con gravi repercussioni e conseguenze su tutti noi. È il monito di Papa Francesco inlaudato sì, ma ora vi voglio parlare di quando i cambiamenti climatici diventano inauditi e qual è la distruzione degli ecosistemi. Due gradi, due gradi di massimo riscaldamento rispetto all'era preindustriale sono uno scenario che è universalmente riconosciuto dalla comunità scientifica che ci consentirebbe di convivere con i cambiamenti climatici con l'adattamento soprattutto con la resilienza. Vi chiederete perché non zero gradi? Perché un grado ce lo siano già giocati rispetto all'era preindustriale e almeno mezzo grado ci sarà comunque anche se riuscissimo a abbandonare immediatamente in questo momento i combustibili fossili. Poi dobbiamo scegliere la strada giusta e questa è una scelta che dipende da noi e dalla nostra società perché lo segnario BAU, business is usual, affari come il solito, dalla Banca Mondiale è ritenuto incompatibile con la società globale interconnessa. È un modo un po' gentile per dire che potremmo estinguerci. Quattro gradi di riscaldamento globale o addirittura se andiamo peggio anche cinque comporterebbero grandi estinzioni di massa fra il 40 e il 60 per cento delle specie viventi e sarebbe curioso se fra queste ci fosse anche l'homo sapiens, magari non in questo secolo ma nei successivi. Ci sono anche le pubblicazioni scientifiche su questo. Se invece scegliamo la strada virtuosa a due gradi avremo solo, si fa per dire, la perdita del 10-15 per cento delle specie viventi. E poi i ghiacciai che sono una bellezza della natura, sono una vera banca dell'acqua e della neve, per i ghiacciai non vi do buone notizie. Questo ghiacciaio, il ghiacciaio del Grossglockner, una passeggiata nei cambiamenti climatici che vado spesso fare, quando sono nato era dove c'è quella freccia rossa, ebbene indipendentemente se scegliamo i due o i quattro gradi è spacciato. Cambierà solo l'anno in cui diventerà spacciato lui e quasi tutti i ghiacciai alpini fuorché quelli ad alta quota. Dobbiamo fare tante cose per limitare i cambiamenti climatici, ma per il momento ci sono alcune cose che anche io personalmente non riesco a rinunciare. Fra questo andare a sciare e anche viaggiare. Ebbene, in base a uno studio OXE, risulta che dagli 80 circa impianti di risalita a stazioni scistiche attive nelle Alpi italiane, se limitiamo il riscaldamento globale entro i due gradi, ne arriverebbero attive economicamente e con innevamento sufficiente e anche con temperature sufficienti per fare la neve artificiale, a parte il problema dell'acqua, una settantina. Se andiamo verso la strada sbagliata dei quattro gradi, ne arriverebbero attive economicamente e con quantità di neve sostenibile soltanto una ventina. Quindi la scelta non è soltanto ambientale ma anche economica. Invece se andiamo al Polo Nord, il ritiro dei ghiacci artici marini è drammatico, siamo ai minimi storici. C'è un deficit di ghiaccio, questo era settembre 2016, dati dalla NOA, di oltre 4 milioni di chilometri di ghiaccio. Questo apre da un lato nuove rotte e nuovi conflitti per la ricerca delle risorse, ma crea anche dei problemi. Il primo, pensiamo gli orsi polari, gli orsi bianchi, campeggiara naturalmente all'ingresso di COP21 di Parigi, un orso bianco, ma il problema del climate change e del ritiro dei ghiacci artici marini non è l'orso, ma è l'homo sapiens. Paradossalmente il ritiro dei ghiacci artici marini, nascando un fenomeno un po' complesso, non ve lo sto a spiegare oggi, l'amplificazione artica espone maggiormente l'Europa e gli Stati Uniti orientali a maggiori ondate di freddo e di gelo improvvise, come il nevone 2012, come la grande nevicata paralizzante del 6 febbraio 2015, che mi ha dato tanto da fare per i miei clienti professionali, fra cui Babbo Natale, perché questa neve arriva improvvisa, poi altrettanto improvvisa se ne va, ed ecco che aumenta il rischio delle alluvioni, delle inondazioni, non parlate di bombe d'acqua perché non fanno parte della buona meteo, si chiamano semplicemente nubi fragi, anche le trombe d'aria a volte si è usato impropriamente questo nome, ma questi fenomeni estremi sono ormai una nuova normalità e la loro frequenza in futuro dipenderà anche dalla nostra scelta e dall'adattamento e resilienza. Allora andiamo al mare, vi chiederemo. Beh, se aspettiamo un po', se non siamo virtuosi, facciamo la scelta sbagliata e siamo anche un po' sfortunati, perché questo è un scenario un po' pessimistico, ma non impossibile, il mare non arriverà a Bologna, ma forse a Budria o qui alla periferia, qui attorno alla tangenziale potrebbe arrivare. La strada più virtuosa del grado e mezzo o dei due gradi, perché un grado e mezzo? Lo chiedono fortemente le piccole isole Stato, perché per loro la questione dei cambiamenti climatici non è economica, ma di sopravvivenza. Limiterebbe i danni anche se, per esempio, località come Venezia hanno ben poche speranze di fronte ai guai che abbiamo combinato. Che fare dunque? Si è già parlato prima di COP21, ci ho partecipato anch'io, entrando si ha una sensazione contrastante, almeno per quanto mi riguardava. Da una parte le speranze, le belle parole, siamo la prima generazione che subisce gli effetti dei cambiamenti climatici è l'ultima che può fare qualcosa per fermarli, ha detto Barack Obama. Dall'altro le azioni concrete, arriverà questo risultato. Dentro la sensazione era molto diversa che nel mondo esterno, nella società civile. Ma COP21 non ha deluso le aspettative. È uscito un grande trattato internazionale che ha l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale entro due gradi rispetto all'era preindustriale, facendo ogni sforzo per contenere il riscaldamento entra un grado e mezzo. È stato già ratificato da 60 stati, fra cui tutti i grandi inquinatori, Stati Uniti, la Cina, eccetera. L'Unione Europea, stiamo aspettando l'Italia, come al solito un po' in ritardo, ma ci stiamo arrivando. Ci arriveremo, ma entrerà in vigore appunto il 4-5 novembre alla conferenza di Marrakesh che dovrà cominciare ad attuare questo accordo. Le parole di Ban Ki-moon. Per la prima volta tutte le nazioni del mondo hanno preso impegni concreti per aumentare la resilienza e per combattere i cambiamenti climatici. Quello che sembrava impossibile è diventato inarrestabile. L'ho imparata bene a memoria. Belle speranze per i giovani, ce ne sono tanti qua. C'è il principio di equità intergenerazionale scritto lì. Dobbiamo garantirvi un pianeta in condizioni non peggiori di quello che l'abbiamo trovato noi. Sono parole, ma sono parole importanti per cui potrete appellarvi se non lo rispetteremo. Impegni di tutte le nazioni presi dal basso, con un nuovo metodo, gli NDC. Tutti hanno detto che cosa potevano fare in base alla loro situazione, naturalmente diversa per i grandi inquinatori o per i paesi in via di esilutto. Tutti si sono impegnati, ma come ben sappiamo, se aspettiamo i governi, sarà troppo poco e tardi. Obiettivo ambizioso, impegni ampiamente insufficienti. Dovranno essere resi più ambiziosi, altrimenti andremo verso un riscaldamento di circa 3,7 gradi. COP21 chiede anche un impegno a livello subnazionale, le città, le regioni, anche le imprese e anche i singoli cittadini e le comunità locali. Ma tutti a questo punto mi chiedono, beh, cosa posso fare io, il solito decalogo, eccetera, eccetera. È finito, ve lo dico subito, il tempo di chiudi il rubinetto mentre ti dà i denti. È importante, sì, è stupido spiegare acqua così, ma le azioni devono essere molto più forti e ambiziose anche nel singolo vivere quotidiano. È vero, eliminare gli sprechi, ma gli sprechi sono la punta dell'iceberg. E quello che ha affendato il Titanic non è stata la punta, ma la parte sommersa dell'iceberg. Ecco quindi il mio nuovo decalogo. Usa fonti energetiche rinnovabili. Vai in bicicletta, preferisci la bicicletta, o se usi l'auto, usa appunto l'auto elettrica o ibrida, ma ricaricata a fonti energetiche rinnovabili. Chiedi che la tua città diventi smart e resiliente. Fai pressione sui tuoi rappresentanti politici o impegnati tu stesso. Migliora l'isolamento della tua casa. Parlane con gli amici, con i familiari, con i colleghi, con gli insegnanti, a scuola. Parlane di fronte a una bella tavola imbandita facendo rifiuti zero. Portiamo i piatti da noi con un cibo buono, locale, biologico e anche resiliente, perché anche il cibo ha una grossa parte di importanza nel combattere i cambiamenti climatici. Tutela le foreste e i suoi abitanti. Lo farò andando a studiare la biodiversità il prossimo mese in Costa Rica. Metteremo una bella webcam così vi saluterò da là. Riduciamo zero i rifiuti, smettiamo di fare rifiuti. Decarbonizziamo la nostra società. Non significa togliere di mezzo il carbone, ma dire ciao ai combustibili fossili. Abbandonare questo modello basato su petrolio, carbone e anche gas. A questo punto dovrei arriarmi verso la fine. Ah, c'è prima internet galline. Che cosa pensate per un futuro sostenibile per i giovani? Un nuovo stile di vita. Non solo la tecnologia, ma anche i modelli. Adottare uno stile di vita internet galline significa cercare di unire le conoscenze del passato, le saggezze del passato, stili di vita sobri, con le tecnologie e le belle cose che abbiamo oggi. Siamo proprio alla fine. Qui volevo raccontarvi la barzelletta dei due pianeti. Ci sono due pianeti che vagano nello spazio, uno malmesso, tutto malandato, uno bel grosso e rigoglioso, pieno di vegetazione. Quello malmesso dice a quello malandato. Ma che hai? Taci, va là, un'infestazione di Homo sapiens. Mi stanno desforestando, fanno buchi dappertutto. Ho perso la calotta artica, non so più come fare. E tu? Ti vedo bene in forma. Guarda, stai tranquillo. L'ho avuto anch'io, ma è una cosa che passa. Per finire, siamo di fronte a un attivio difficile. Non ho finito. La strada più facile non è detto che sia quella migliore. Non chiedere la strada a chi la sa già, ma andiamo con quelli come noi che la stanno cercando. Grazie. Grazie.